8 mesi e un fardello troppo, troppo pesante da portare. La piccola, dolce Awa è venuta al mondo con la rara sindrome di Dandy-Walker, una patologia che causa un sottosviluppo della parte centrale del cervelletto e che comporta l'idrocefalo, cioè una testolina molto grande, sproporzionata rispetto al corpo. I giovani genitori di Awa arrivano dalla Nigeria e vivono a Lecce da 8 anni. Qualcuno li ha presentati a cuore amico progetto Salento Solidarietà. La vita è dura, durissima, perché dalla nascita di Awa la sua mamma ha dovuto lasciare il lavoro e il suo papà si arrangia con qualche lavoretto saltuario per portare ogni giorno il cibo a tavola per la piccola e per tutta la famiglia. Eppure lui non ha dubbi, siamo felici di aver avuto Awa, l'abbiamo tanto desiderata, c'è tanta gente che vorrebbe un figlio e non riesce ad averlo. Parole emozionanti, commoventi, da padre con la P maiuscola, che però ha bisogno di aiuto. Le condizioni in cui vivono sono di estrema povertà e l'idrocefalo richiede cure tempestive da iniziare immediatamente dopo l'accertamento diagnostico. Solo così si può tentare di ridurre al minimo il rischio di complicanze. Per questo, oltre a pensare a come tirare avanti giorno per giorno, ci si deve necessariamente recare al bambino Gesù di Roma o al Gaslini di Genova e bisogna far presto. Chiedono al Salento di mettersi una mano sul cuore, per racimolare un contributo economico che, seppur effimero, è necessario per la vita quotidiana e per andare lontano a cercare di far star meglio la piccolina di casa. Donate a Cuore Amico e renderete un sogno una possibilità concreta. L'appello è anche a chi dovesse avere un lavoro da offrire al papà della bambina, che ha esperienza come cuoco, ma che si adatta a tutto. Potete contattare Cuore Amico allo 0832 210 225.